Ben ritrovati, continuano gli appuntamenti in web conference con gli amministratori del Cilento per discutere della situazione attuale legata all'emergenza coronavirus, ma anche per fare il punto della situazione sulle attività amministrative. Oggi ci colleghiamo con il consigliere d'opposizione del Comune di Vallo della Lucania, Nicola Botti. Ben trovato Nicola. Grazie per avermi invitato. Era un po' di tempo che non ci vedevamo, però io vi seguo e vi faccio i miei complimenti per la trasparenza e per la comunicazione ottima che fate. Grazie Nicola. Allora, partiamo subito nel commentare questa decisione della Regione Campania e quindi del Presidente Vincenzo De Luca di ritornare in presenza per quanto riguarda la scuola, per quanto riguarda l'infanzia e le prime classi della scuola elementare. Che cosa ne pensi? Da mercoledì ci sarà la ripartenza, anche se dobbiamo sottolineare che molti sindaci del Cilento hanno già firmato delle ordinanze che fino al 3 dicembre non sarà possibile la didattica in presenza. Sinceramente è una notizia che non mi aspettavo e credo che un po' tutti non si aspettavano, non solo da quello che era trapelato interpretando un po' le parole del Governatore nel fine settimana, ma sinceramente anche attraverso un'istruttoria non completa ma da una prima istruttoria, da prime notizie, insomma emergeva in maniera palese, in maniera forte che le scuole avrebbero avuto ancora una volta una proroga per quanto riguarda la riapertura. Io sono assolutamente, ero, sono e sarò sempre in questo periodo per la chiusura delle scuole e quindi per la continuazione della DAD, non può essere diversamente. È vero che la curva inizia a calare ma proprio perché inizia a calare dobbiamo essere assolutamente ulteriormente responsabili e chiedere un ulteriore sacrificio. È ovvio che la mia è la voce diciamo anche di un amministratore locale, so che quando si prendono certe decisioni lo si fa in sinergia e confrontandosi con esperti. Infatti sapevamo che oggi l'unità di crisi avrebbe proprio valutato i dati del monitoraggio che è stato fatto su, tenuto conto ai giorni scorsi, no, tutti sappiamo che è stato fatto uno screening sui docenti, a base diciamo volontaria sui docenti, no, ma sui genitori e su alcuni bambini sì, per cui chiaramente avranno appatato per questo. Vallo per dire ha fatto l'ordinanza perché noi possiamo anche dire questo, insomma, che fermo restando il provvedimento della regione, e quindi chiaramente l'ordinanza regionale che prevede la repertura per mercoledì 25, sappiamo però che è data facoltà e possibilità ai comuni di decidere in maniera diversa, per cui tanti comuni come ben dicevi tu hanno appatato per una soluzione diversa, tra cui pure Vallo della Lucania. Io non l'avrei fatta stamattina l'ordinanza, ma l'avrei fatta anche qualche giorno fa, perché sappiamo poi tutta l'organizzazione che c'è dietro la scuola, per cui secondo me i tempi vanno un pochettino giustificati. E quindi dico che per fortuna Vallo l'ha fatto e mi pare che fino al 3, mi pare, le scuole restano chiuse. Io mi auguro che si possa andare anche oltre il 3 dicembre, capisco tutte quante le difficoltà. Non me ne voglia nessuno, non me ne vogliono i genitori. Io assolutamente sono anche io un papà di due bambini e io, a prescindere, ma i miei due bambini non andranno a scuola. E non andranno a scuola perché sono ben coscio del problema che oggi la scuola può determinare per quanto riguarda questo brutto e maledetto virus. Io credo che oggi dovremmo fare delle attività politiche rafforzative durante la sospensione dalle elezioni in presenza. Potremmo rafforzare alcune attività, potremmo stare più vicino alle famiglie anche aiutandole a gestire meglio il proprio lavoro o a gestire meglio anche problemi, perché non ci dimentichiamo che ci sono famiglie che addirittura hanno problemi con internet, ci sono famiglie che hanno più bambini e hanno difficoltà con i computer. Allora io non sento mai parlare di queste cose. C'è troppo una fase statica della politica locale, territoriale locale, e tutti che aspettiamo questi provvedimenti nazionali e regionali, quasi chiaramente a prendere un po' con le distanze da quello che è la reale esigenza di una comunità. Per cui io mi auguro che Vallo e altri sindaci possano operare per questa soluzione. Ma sai perché? Perdonami se probabilmente sono un po' più lungo, perché tutto ciò va collegato con altre problematiche. Noi oggi abbiamo il problema scuola che è collegato necessariamente, inevitabilmente, in maniera forte, con quello che è il problema sanità. Noi abbiamo delle grosse difficoltà, per cui secondo me, non secondo me, ma lo dicono gli esperti, medici, professionisti, che dobbiamo noi gestire meglio questa epidemia stando attenti. E stando attenti significa fare dei sacrifici, tipo non riaprire le scuole in questa fase, che si arriva al 10, al 15, 20 dicembre, dove poi chiaramente ci sarebbero state le vacanze natalizie. E quindi il sacrificio per altre due settimane lo possiamo fare. Io capisco che questi bambini hanno difficoltà. Io vedo mia figlia che ha 10 anni, la difficoltà che vive, è sola da tanto tempo, insomma, chiaramente vive una situazione di chiusura in una cameretta a studiare, a fare lezioni la mattina. Però oggi noi stiamo facendo dei sacrifici importanti che valgono la sopravvivenza, che valgono la salute, che valgono chiaramente la possibilità di difenderci. Ci puoi aggiornare sulla situazione attuale che sta vivendo la città di Vallo per quanto riguarda i casi che sono stati accertati dal Dipartimento dell'Asla di Salerno? Io ho letto anche un tuo post di qualche giorno fa, insomma, che rimarcavi la scarsa comunicazione da parte dell'amministrazione comunale. L'ultimo report è datato 2 novembre. Che cosa ci puoi dire? Siamo molto delusi. E siamo molto delusi non perché abbiamo questa posizione o ricopriamo la carica di amministratori di opposizione. C'è chi l'opposizione la fa male e c'è chi l'opposizione cerca di farla bene, con trasparenza e con senso di responsabilità soprattutto, così come ci sono maggioranze che fanno il loro lavoro bene, altre meno bene. A Vallo c'è una situazione che io oso dire brutta, brutta, molto brutta. C'è una mancanza di serietà, di responsabilità, di rispetto nei confronti della popolazione da parte di una sola persona, anche se mi dispiace molto per gli altri colleghi della maggioranza che comunque fanno parte chiaramente della maggioranza e quindi fanno parte del gruppo Aloia. È una delusione incredibile. Io lo vedo anche l'atteggiamento che è il Sireco di Vallo è anche un atteggiamento di strafottenza. Fatemi passare questo termine perché in un momento così delicato bisogna essere seri, duri e dire le cose come stanno. Si va in un'unica televisione, non so se voi avete mai avuto il piacere di contattare il primo cittadino, e si va in una sola televisione, si dice quello che si vuole dire, lo si dice molto spesso anche con ilarità. Mi ricordo che dopo tanto tempo, nella prima occasione in cui ha parlato, addirittura spesso sorrideva rispetto ad un problema così grave. Addirittura è lui che fa polemica nei confronti delle opposizioni, nei confronti di chi probabilmente sui social si lamenta. ma un bagno di umiltà, un bagno di serietà, un bagno di responsabilità non lo fa mai e quindi chiaramente questo determina una grandissima delusione, una grandissima responsabilità. Perché c'è una differenza abissale tra il semplice cittadino che tranquillamente può dire o può pensare che è opportuno o meno fare comunicazione. Chiaramente è un'opinione che va rispettata anche se non la condividi. Ma l'amministratore no. L'amministratore è obbligato a quello che è la comunicazione istituzionale. Comunicazione istituzionale che trova i propri cardeni, che trova i propri presupposti su quello che è il principio della cosiddetta trasparenza. Allora si rischia di realizzare l'effetto opposto. E cioè che proprio la non comunicazione crea problemi. Oggi è diverso perché diciamo che oggi siamo in zona rossa per cui chiaramente i cittadini devono necessariamente e obbligatoriamente avere un comportamento diverso restando a casa e muovendosi soltanto se per necessità, giustificando il tutto. Ma non è assolutamente corretto non comunicare. Guarda, voi tutti sapete che poco tempo fa, Novi Velia, prima che ci fosse il provvedimento nazionale, è stato il sindaco di Novi Velia, ha con ordinanza dichiarato zona rossa, Novi Velia. E nessuno se l'aspettava. Tutti quanti sono rimasti da questa decisione. E io invece la leggo in questo modo. Non si fa comunicazione, non si dice nulla, per cui tutti quanti sono consapevoli di non avere il virus, di non avere il virus nel proprio paese, nel proprio comune. E quindi sentirsi più liberi. Nell'anno in cui ti senti più liberi, determini delle conseguenze molto molto negative. E poi si arriva ad adottare provvedimenti stringenti, provvedimenti forti. Vallo della Lucania, io credo che il sindaco, per fortuna, è stato, tra virgolette, permettetemi il gioco di parole, è stato fortunato col provvedimento a livello nazionale del governo. Perché questo modus facendi, questo modus operandi, avrebbe determinato a Vallo grossissime conseguenze. Ti dico perché hanno fatto la comunicazione solo il 2 novembre. Questa è una, ripeto, io non ho nulla contro la maggioranza, il resto della maggioranza. Ma sono vittime, e chiaramente non giustificate, del primo cittadino. Loro non hanno nessun rapporto con le opposizioni, non hanno assolutamente l'idea di poter amministrare insieme alle opposizioni, anche in un momento drammatico come questo. Però intanto sono molto attenti ai social. Loro badano molto alla forma. E allora quel giorno hanno fatto la comunicazione, perché il sottoscritto aveva annunciato che a distanza di poche ore sarebbe stato indiretta su Infocilento. E quindi chiaramente avevo annunciato di parlare su Infocilento e di parlare di questa mancanza di comunicazione. In quell'occasione, a distanza di mezz'ora e 40 minuti da quel post, perché loro controllano, non hanno altro da fare, quindi controllano sui social, hanno fatto uscire questa notizia che si è fermata il 2 novembre. Per cui chiaramente non è la polemica, oggi non è polemica, oggi ci vuole ancora più responsabilità, ma la responsabilità non ci impedisce di dire la verità. La responsabilità non ci impedisce di essere diretti, la responsabilità non ci impedisce di essere duri. Nicola, un'altra domanda te la faccio per quanto riguarda le prossime politiche a Vallo della Lucania. Che cosa farà Nicola Botti? Si candiderà a sindaco? Io sinceramente, quando io, noi, gruppo, non mi appartiene insomma il pensare a me o parlare dell'io, Noi come gruppo abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo fatto 5 anni di esperienza, abbiamo accresciuto le nostre competenze, ci sentiamo responsabili e capaci di poter guidare la macchina amministrativa di questa città. Vallo assolutamente bisogno di una svolta, di una svolta importante, di una svolta forte, noi siamo fuori da tutto e quindi la cosa importante è che noi dopo 10 anni ci liberiamo del primo cittadino, che ha distrutto, sotto tutti quanti, la mia è una critica assolutamente politica, ha distrutto questa città e quindi noi ci troviamo ad affrontare, ci troveremo ad affrontare se i cittadini di Vallo in maniera consapevole, in maniera libera, assolutamente libera, decideranno di votare, di dare fiducia al nostro gruppo, con Nicola Botti sindaco, oppure con Nicola Botti all'interno di una compagine forte, che possa amministrare in maniera capace, capace Vallo. Noi dobbiamo ripartire da tutto, dobbiamo ripartire dalla nostra sanità, dall'ospedale di Vallo Lucane, dobbiamo essere vicini al Presidente del Tribunale che sta battagliando in modo incredibile per salvare il Tribunale, dovremmo essere vicini ai commercianti che stanno morendo, all'edilizia, alle imprese che non costruiscono più nulla, alle politiche sociali, ai giovani, a riportare un po' a investire sulle scuole, sugli istituti, ma proprio chiaramente mettere in sicurezza gli istituti che sono vecchi ormai da una vita. dobbiamo ritornare a sedere, a, tra virgolette, a comandare intorno ai tavoli che contano, dobbiamo stringere rapporti forti con Agropoli, con Capaccio, con Santa Maria, con Sapri, con Sala Consilina, anche in quello che può essere una ripartizione di servizi, quindi chiaramente è di servizi già esistenti e di servizi nuovi, per cui alla tua domanda io rispondo che sono assolutamente responsabili di poter assumere questo ruolo, mi sento un cittadino vallese, lo farei con la massima, chiaramente, umiltà, con la massima responsabilità e con la massima vicinanza a tutti quanti i problemi, ma sarebbe anche non corretto dire che non c'è la possibilità di discutere con altri gruppi e trovare una soluzione e fare una squadra veramente forte, con Nicola Botti candidato sindaco o anche con Nicola Botti, insomma chiaramente a disposizione di un gruppo veramente forte. Un'altra domanda, Nicola, per quanto riguarda invece il piano di zona, sappiamo che il comune di Vallo della Lucania è comune capofila, ecco sta funzionando il piano di zona, più volte anche su questo argomento insomma abbiamo visto diversi i tuoi interventi, che cosa ci puoi dire? Io dico che con massimo rispetto per le persone che ci lavorano, dagli assistenti sociali ad altri operatori che si impegnano quotidianamente, e quindi cercando di portare a casa risultati importanti e cercando di stare vicino insomma alle fasce deboli. Bocciatura totale per quanto riguarda la parte politica. Il piano di zona ormai verte in situazione di quasi fallimento, i debiti sono tantissimi, non è difficile, proprio a causa della gestione, rendi contare anche alcuni servizi che sono stati resi, per cui dovrebbero essere ricevuti i finanziamenti previsti per quel progetto. Non si realizzano progetti. Oggi vi dico negli ultimi mesi che cosa stiamo facendo per le fasce deboli, quali sono i progetti per le fasce deboli. Si continua a non incassare le quote di compartecipazione, si continua a non pretenderle, e quindi chiaramente la situazione è veramente drammatica. Sembra che chi conosce la dinamica, le dinamiche del piano di zona, chi conosce come funziona il piano di zona, purtroppo chi ha bisogno necessariamente dei servizi che un piano di zona dovrebbe rendere, sa che quello che sto dicendo è una verità assoluta, e non è una verità condizionata o una verità che può essere chiaramente detta, perché io sono dall'altra parte, ma ci mancherebbe, io sarei veramente contento se il piano di zona funzionasse e se sei veramente vicino alle persone. Partiremo assolutamente forte se dovessimo vincere le prossime elezioni sul piano di zona, io l'unica cosa, sono molto serio, anche per il lavoro che faccio, quindi sono molto equilibrato nel dire certe cose, ma l'unica cosa che mi sento di dire, l'ho sempre fatto, se io dovessi mai vincere le elezioni insieme al gruppo di cui faccio parte, il nostro primo obiettivo sarà intervenire sulle famiglie più bisognose, perché credo che una comunità diventa forte, una comunità diventa importante quando le persone tutte stanno bene, soprattutto quando sanno che il principio che governa una comunità è quello della solidarietà, dell'unità. Nessuno, e perdonami e concludo, sembra che questo, come dicevo prima, maledetto virus, non abbia ancora fatto capire a tutti quanti che il primo effetto che sta determinando è di farci capire che siamo tutti quanti uguali. Nicola, un ultimo tuo pensiero su gli atti di violenza che si sono consumati nelle scorse settimane proprio nella città di Vallo della Lucania. si sono presi dei provvedimenti in merito, com'è la situazione? Per quanto riguarda quanto accaduto è una pagina veramente brutta della storia del nostro paese, che io ricordi episodi di tale violenza non si sono mai realizzati. Oggi si realizzano purtroppo con una certa frequenza e questo chiaramente deve farci aprire gli occhi. Io ho sempre pensato, ho sempre detto, perché chiaramente le attività verranno fuori. Noi abbiamo sempre preteso di implementare il servizio di videosorveglianza a Valora Lucania, di implementarlo e diffonderlo anche nelle zone periferiche. Oggi dobbiamo sapere che a Valora Lucania, almeno fino a qualche mese fa, ma credo pure oggi, il 70% delle telecamere non funzionano. Ma al di là di questo aspetto che c'entra Caudispecie marginalmente rispetto alla domanda che tu mi hai fatto, io credo che bisogna assolutamente studiare un piano importante per impedire che queste cose possano riaccadere. Io ho già proposto, come gruppo abbiamo proposto, in tempo non sospetto già a luglio, in occasione di uno degli ultimi episodi che si sono verificati, l'intervento forte da parte del Comune. Noi proponemmo un tavolo con i vigili, la forza dell'ordine, l'amministrazione, chiedemmo di essere invitati anche noi. Chiaramente anche in quel caso fumo esclusi, perché ripeto, non c'è nessuna possibilità di poter fare politica insieme alla maggioranza. E quindi chiaramente quello è un primo passo, una maggiore presenza sul territorio che c'è, capisco insomma la carenza di personale da parte delle forze dell'ordine e abbiamo anche proposto la possibilità di stipulare qualche convenzione con qualche società che si occupa, queste società che fanno vigilanza. Quindi chiaramente anche con una quota di compartecipazione da parte del Comune insieme ai commercianti e quindi chiaramente controllare un po' di più la piazza, cioè significa il Comune. Per quanto riguarda il resto, ripeto, qualche proclama è stato fatto, aspettiamo i fatti, non possiamo più consentire che accadano queste cose, anche perché non possiamo far rischiare ai nostri figli, ai nostri ragazzi, alle persone che chiaramente con molta tranquillità vivono il paese e in qualunque momento, in qualunque momento per come anche voi conoscete i fatti che sono verificati, possono subire delle aggressioni. Su questo bisogna tenere il piede fermo e quindi come dici tu, dalle domande che mi hai fatto e dalle risposte che ti ho dato, emerge in maniera oggettiva che Vallo non è più né un paese tranquillo, né un paese più tranquillo, perché bisogna intervenire anche sulle frazioni che sono completamente abbandonate e quindi è un paese che ha difficoltà sia da un punto di vista della sicurezza e quindi si interviene sulla sicurezza, sia da un punto di vista ormai dell'importanza che non c'è più, che non conta più nulla sui tavoli della politica che ti dà servizi importanti e che sono utili alla vita delle persone e quello che abbiamo lo stiamo perdendo, non lo stiamo difendendo e quindi oggi tanti ragazzi sono costretti ad andare via, tanti ragazzi stanno qua, sono delle persone che hanno studiato, che fanno sacrifici, che stanno a casa in attesa di poter lavorare, quindi non siamo neanche più un paese economicamente forte, fatta eccezione, però questo lo voglio dire, ci sono dei ragazzi che stanno portando avanti delle iniziative belle nel nostro comune e questo ti fa capire che le menti a valo, le intelligenze a valo ci sono, ce ne sono tante, ma sono stanchi di questa politica e quindi di fronte a questa politica preferiscono starsene fuori e a solare non intervenire. Invece noi dobbiamo, dobbiamo e vogliamo coinvolgere completamente i nostri ragazzi, le nostre ragazze di Vallo, perché solo in questo modo, dando a tutti l'idea di poter diventare una comunità di nuovo forte, che con la comunità noi riusciremo a stravolgere in poco tempo e a risolvere in poco tempo tutti i problemi che prima evidenziavo. Perfetto, grazie. Scusami, fammi dire soltanto questa cosa perché ci tengo e concludo. Come ho già detto in altre occasioni, non bisogna fare tutto un erbo a un fascio. A Vallo si pensa che il problema sia semplicemente è vero che ci sono i protagonisti di questi atti di violenza che sono gli stessi e che vanno assolutamente allontanati anche con provvedimenti forti, anche rivolgendosi al questore, al prefetto e veramente prendendo provvedimenti seri e forti. Ma però non dobbiamo fare di tutto un erbo a un fascio perché chiaramente ci sono tanti personaggi, tante persone che appartengono alla famiglia dei nomadi che sono persone che dalla mattina alla sera lavorano e si guadagnano da vivere in maniera onesta. Ci tengo che altrimenti faremmo l'errore di non riuscire mai a costruire una comunità seria. Assolutamente sì. Noi ti ringraziamo per la tua disponibilità e spero di sentirti a breve per ulteriori notizie per quanto riguarda la città di Vallo della Lucania. Grazie per avermi invitato, un abbraccio a voi e buon lavoro. Grazie Nicola, buon lavoro e a risentirci. Era il consigliere d'opposizione del Comune di Vallo della Lucania, Nicola Botti. Grazie a tutti.